Musica Salve sono Manchi Simone e bentornati su commenti di qualità Oggi episodio peculiare perchè i commenti che andremo a vedere non li ha scritti nessuno Anzi non ci stanno proprio esseri umani dietro quei commenti Ebbene si parliamo dei cosiddetti bot Quelli che mi segnalate da settimane e settimane ma che dico da mesi Che stanno praticamente all'inizio di ogni video short post community Puntualissimi a 0,0 secondi dall'uscita del video loro hanno già commentato in 4-5 Le domande qui sorgono spontanee Perchè esistono sti bot? Chi li manda? Che cosa servono? Che danno fanno? Che vantaggio danno? E soprattutto perchè youtube non fa niente? Non è la prima volta che il mio canale viene colpito dai bot Anzi questa qui sarà tipo la seconda o terza ondata E soprattutto non succede soltanto a me Succede anche a tantissimi altri canali E semplicemente non è tanto per fare un danno a quei canali Sebbene esistano delle persone che paghino Comprino dei bot che vadano ad inondare il canale Sperando che poi il canale venga bannato Ma ormai youtube lo sa Perchè si dopo un po' youtube li rimuove Riesce a detectarli Ma certe volte ci mette un po' più di tempo Tutti coloro che ancora oggi nel 2024 Continuano a cercare imperteriti di comprare dei bot Per cercare di far bannare un canale E ormai youtube non banna più canali che vengono bottati e colpiti da bot Dovrebbe essere inventata tipo una nuova parola per definire la loro tristezza Tolto ciò i bot vengono lanciati oramai sui canali Per cercare non tanto di danneggiare il canale stesso del creator sotto cui vanno Perchè non gliene frega assolutamente niente a chi li manda Quanto più per truffare gli utenti Perchè ormai tutti quanti i bot si mascherano da donne avvenenti Come le trovate ad esempio sui social tipo instagram E se spera che qualcuno di scemo al mondo Vada a vedere la fotoprofilo per cliccare sul canale Ed eventualmente cercare i social della ragazza in questione Per andare a contattarla Solo e soltanto che quei link che trovate sui loro canali So delle truffe, so degli scam Ve installano dei virus O comunque sia ve ruberanno delle informazioni Ma nessuno è così scemo da andarli a cliccare Invece se continuano a lanciarli vuol dire che qualcuno di stupito al mondo ce sta Oggi è il momento di andare a honorarsi i bot Che si sono impegnati così tanto nel farse riconosce E nel cercare dei farse clicca Avendo fallito miseramente nella maggior parte dei casi Perché scrivono in dei modi così astrusi E così poco naturali Che proprio io lo leggi scritto in fronte Su quelle belle fotoprofilo che ci sta scritto Bot I tuoi video sono sempre un ottimo modo per rilassarsi e distrarsi dalla vita quotidiana Grazie per la tua meravigliosa creatività Sciatore Renna Missile La cosa divertente dei SteamBot è che so più ruffiani e leccacuno del peggiore Tra gli iscritti fanboy più tossici Il tuo canale è una fonte di meraviglia e ispirazione Grazie per la tua creatività e diligenza Medaglia Asciatore Specchio Finestra Poi dicono a me che parlo con vocabolario forbito Guardare il tuo canale è come un biglietto per un mondo di divertimento e gioia Grazie per il tuo lavoro creativo ed energizzante Ponte di San Francisco Arco Medaglia C'avete presente quando guardate quelle pubblicità Che sono talmente finte nei dialoghi tra i vari personaggi coinvolti Che pensate Ma chi è che parla così nella realtà? Che vogliono rappresentare? Che dialoghi quasi corporate? Tipo Spider-Man 2 Ecco, queste esagerano così tanto quei complimenti Che parlano peggio delle pubblicità Nessuno si esprimerebbe mai così A meno che non riescano a fare tipo presa su qualcuno Che c'ha talmente tanto l'autostima sotto i piedi Che prenderebbe però come buono qualsiasi complimento Purché sia un complimento Poi qualcuna ci va un po' più sul leggero E infatti scrive semplicemente Grazie per i tuoi video faccina Coi cuoricini faccina Coi cuoricini chiocciola faccina arrossita Grazie per la tua creatività e il tuo impegno I tuoi video sono sempre una gioia Limone fantasma tornado Chissà perché le persone riescono a riconoscere Che questi sono bot Visto che tutti quanti scrivono allo stesso modo E hanno delle immagini profilo Tutte quante che si somigliano tra di loro Grazie per le emozioni vivide che ci regalate ogni giorno I vostri video sono sempre una vera gioia Cuore giallo cuore giallo Uno biscotto apostrofo La seconda persona singolare Certe volte viene tradotta a cavolo Con la seconda plurale Vostri chi? Ok che adesso l'amministratore legato del canale mio è il gatto Però i video vi faccio io Questo canale è la mia dose giornaliera di gioia Se stai cercando qualcosa di unico Sei nel posto giusto Stella brillante Ma che cacchio stai a di? Guardare il tuo canale è come una vacanza ogni volta che pubblichi un nuovo video Continua a deliziarci con i tuoi contenuti divertenti e pieni di energia Razzo medaglia capra Ok I tuoi video sono sempre così interessanti e di alta qualità che il tempo vola quando li guardo Grazie per il tuo lavoro Faccina che non vuole vedere slot machine cioccolata Voglio esprimere la mia gratitudine per questo coinvolgente contenuto Quali altri argomenti in programma di esplorare? Faccina con le manine mondo doppio cuore rosa doppio cuore rosa tre doppio cuore rosa virgola I tuoi video sono sempre così sentiti e intelligenti Grazie per il tuo contributo all'educazione e allo sviluppo della comunità Scimmia che non vede macchina da formula 1 cosciotto di pollo Eh dai questa c'è andata vicino su quello che veramente faccio sul canale Non che io sia un educatore però comunque sia Molti nei miei contenuti tendono un pochetto a di ve Oh ve volete svegliare? Grazie per il suo duro lavoro e la sua diligenza I suoi video sono vera arte Fialetta del meme con lo scienziato che la guarda aereo mango Il vostro talento è come una fenice che fa risorgere la bellezza in ogni suo volo Continuate a salire sempre più in alto Braccio coi muscoli parentesi tonda chiusa cuore punto esclamativo Guardare i vostri video è come immergersi nel confortevole mondo del vostro talento È davvero piacevole trovarsi qui Fiorellino 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 punto di domanda faccina con gli occhi al cielo apostrofo Il tuo canale è un vero esempio di come fare video di qualità Grazie per tutto il tuo impegno e il tuo lavoro scimmia che non sente mazza da cricket torta di portal Guardare i tuoi video è un vero piacere Grazie per il tuo contributo alla comunità di youtube La mecca iurta casa di roccata Come fate a creare ogni cosa così splendidamente E accento grave semplicemente meraviglioso Cuore zero atletica È il mio canale c'è solo qualità I vostri video sono diventati un vero rituale per me Una fonte di ispirazione e buon umore mango trattino basso pallino verde punto esclamativo Se ogni giorno fosse divertente come guardare questo video La nostra relazione sarebbe perfetta cuori che girano come altri organi L'unica cosa che vi posso consigliare per risanare la relazione è mettere i miei video in sottofondo durante quei momenti Fidatevi funziona I tuoi video sono sempre di alta qualità e sentiti Grazie per la tua talentuosa creatività Paninazzo Dermec Cuore Viola Lupo Grazie per il vostro impegno I tuoi video sono sempre così interessanti e professionali Continua a renderci felici con il tuo lavoro mela verde pattino sborrata I vostri video sono come mondi fiabeschi in cui è così facile immergersi Grazie per questo percorso magico fiammella di scina fiammella di scina fiammella di scina parentesi tonda chiusa cubo nero asterisco Piuttosto che assume sostanze guardate i miei video così poi dopo vedete i draghi No perché è successo ho fatto una serie su Spiro anni fa E nel corso dei mesi ne sono stati cancellati a centinaia e centinaia Questa è tipo l'ondata dei bot più lunga che abbia mai visto Le altre si sono sempre assestate intorno alle 2-3 settimane massimo un mese Questa invece saranno 6 o 7 mesi che va avanti e non demorda E' proprio dura a morire Sono tipo la gioia dei ciccio gamer Perché almeno loro commentano fanno un'interazione E almeno un momento di gloria ce lo potevano avere Tutti quanti che fanno dei video tragici No ragazzi non dovete credere ai bot perché mi stanno attaccando Oh mi raccomando non aprite i loro canali Qualcuno invece dovrà trovarci un lato positivo Che poi tanto le interazioni che te danno al canale manco so più valide perché dopo un po' YouTube li toglie Mi raccomando nei primi tempi in cui esce questo video siate gentili con i bot Pensate che comunque qualcuno per mettere su sta truffa ci sia impegnato E non vanifichiamo il suo lavoro Detto ciò vi ringrazio per tutto quanto l'immense e infinito Costante supporto che date ogni giorno al canale Ringrazio anche Lollo che mi ha fornito alcuni degli screen E dei vari bot che commentavano sotto i miei video Perché questi qui provevano tutti quanti dei miei video E farti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti a tutti quanti Non posso che darei appuntamento Direttamente ad un prossimo video Ciao a tutti i miei video Ciao a tutti i miei video